Tre sportelli Bancomat di altrettanti istituti di credito sono stati presi d'assalto nella notte. È successo a Bari, Bitonto e Altamura. Il primo colpo è stato tentato a Bari Palese, quartiere San Girolamo, dove i ladri hanno fatto esplodere il Bancomat della Banca Popolare di Bari. Ma all'arrivo di una pattuglia di carabinieri li ha costretti ad abbandonare la maggior parte delle banconote tirate fuori, circa 11.000 euro, e a scappare a bordo di un'auto di colore grigio. Dopo circa mezz'ora, a Mariotto, frazione di Bitonto, un'altra esplosione. Nel mirino dei ladri, questa volta, lo sportello della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, dalla quale però non hanno portato via nulla. L'ultimo assalto, un'ora dopo, alla banca Unicredit di Altamura. I malviventi questa volta sono arrivati a piedi, hanno fatto saltare il Bancomat, ma non sono riusciti a forzare la porta della banca. In tutti e tre i casi sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. In tutte e tre le banche erano attive le telecamere di videosorveglianza, le immagini saranno utili alle indagini.